Bella raga e bentornati in un nuovo video, finalmente dopo la pausa di Pasqua siamo tornati con il campionato Mancano le ultime 4 giornate e oggi affronteremo il Grandate Che comunque hanno 5 punti in meno di noi, quindi non sarà facile, ma come ogni partita Quindi non voglio parlare troppo, ma voglio lasciarvi subito alla partita E niente, buona visione Ed eccoci ritrovati qui in una nuova giornata di campionato, dopo la pausa di Pasqua Finalmente si ritorna in campo, oggi si affronteranno Real Sanfermo contro Grandate Padroni di casa obbligati a vincere e a fare 12 punti su 12 nelle ultime 4 partite Formazione un po' diversa perché mancano un po' di giocatori per infortuni Infatti in difesa giocheranno centrali Mitch e Panarella Terzini, Io e Luke In mezzo al campo Dome e Nico Esterni, Usse e Pisto E davanti giocheranno Abu insieme a Sanfi Vedremo come si svolgerà questa partita Siamo partiti subito forti con Abu Che la passa a Dome Dome sponda per Nico Che calcia di prima intenzione Non era facilissima Qua Pisto, punizione battuta, lunga su Dome che la rimette in mezzo Però non c'è nessuno dei nostri Quindi Grandate cerca di ripartire In contropiede con il numero 10 Che porta palla La passa al numero 9 Che temporeggia, si gira Prova, lancio lungo a cambiare campo Per il numero 7 Che la crossa in mezzo Il numero 4 mi sembra Cerca di spizzare Non ci riesce, quindi la palla esce Ora prova Sanfi sinistro Ed è subito 1-0 Con un missile Che ha fatto partire Sanfi Guardate qui sotto la traversa Il portiere non può nulla Mancino incredibile Ed è subito 1-0 Per i padroni di casa Ora vediamo se Il Grandate risponde Con il numero 9 Che cerca di far la sponda Per il 10 Ma Mitch bravissimo Riesce a coprire Ad appoggiare a Umbi Ora ancora Real Sanfermo Sempre con Sanfi Finta la passa a Dome Cerca di servire Abu Ma non ci riesce Quindi può ripartire il Grandate Con il numero 6 Abu ritorna Non riesce a fermare il numero 6 Che la passa poi al 10 Che serve il numero 9 L'attaccante Che però viene fermato benissimo Da Umbi Ora ancora Real Sanfermo Sempre con Sanfi Prova il cross Facile stavolta per il portiere Però ancora i padroni di casa in avanti Sempre Dome che fa la sponda Sanfi Guarda chi c'è in mezzo Ancora a cercare Dome Che prova un'altra sponda Questa era un po' più difficile Perché era chiuso Poi qua la palla arriva a me Che cerco di rimetterla in mezzo Abu La colpisce di testa per sbaglio C'era Pisto Che stava andando verso la porta Ed era regolarissimo Qui ancora Abu Che riesce a spizzare per Pisto Che viene chiuso bene dal difensore Però è calcio d'angolo Battuto Un po' a lungo Però c'è sempre Dome sulla palla Che temporeggia la passa nuovamente a Sanfi Sanfi ancora Dome Che chiudono l'1 e 2 Dome prova il destro Chiuso Poi il capitano del grandate riesce a spazzare Poi Mitch chiude Ora ancora grandate con il numero 4 Che allarga sul numero 7 Che mi punta Quindi temporeggio Ancora il numero 7 Che crossa in mezzo Stavolta la punta riesce a colpire Però appunto Troppo Troppo laterale E quindi niente pericolo per Umbi Qua l'avevo tirata addosso Appunto al numero 7 Che anche lui aveva detto Che appunto la palla era nostra Ma l'arbitro non ha visto Quindi è ancora grandate davanti Però il 9 Sbaglia lo stop Quindi nessun pericolo Qui occhio a Panarella Che sbaglia Si fa intercettare il pallone Dal numero 10 Che può andare a provare il tiro E va largo di un soffio Qui grandissima occasione Per appunto Gli ospiti Con il numero 10 Che colpisce d'esterno Però la palla per nostra fortuna esce Quindi ora possiamo ripartire Sempre con Panarella Che lancia a lungo A cercare Dome Qui viene bloccato L'arbitro dice niente Quindi si continua a giocare Ora siamo nuovamente noi in attacco Con questa rimessa laterale Battuta da Usse per Sanfi Che cerca di girarsi Ancora Dome Fa un'altra sponda Sempre per Nico Che la mette in mezzo Pisto Pisto la liscia La palla rimane ancora lì Abu Abu salta il primo uomo La mette in mezzo Dome Viene chiuso Da due difensori E cerca ancora di ripartire Grandate Ma siamo lì Li chiudiamo Ancora Luke Che prova il cross Ora si che può ripartire Grandate Sempre con il numero 10 Però Mitch Che fa una gran chiusura Poi Sanfi Prova il lancio per Pisto Che era libero Ma Lancio sbagliato Quindi Dome Altra sponda Bellissima Per Usse Che forse è un po' troppo lunga Cerca di tenerla Si allarga troppo E poi il 7 La recupera Quindi può far ripartire Il contropiede Per la loro squadra Però Nico Riesce in un primo tempo A fermare gli avversari Poi arriva Panarella Ancora Panarella Che allarga benissimo Per Pisto Pisto di prima A cercare Abu Che è regolare Ancora Abu Colpo di tacco Sbaglia qui Sbaglia qui la giocata Per Pisto Però Ancora Grandate Che sbaglia il rilancio Però occhio Perché il 9 Riesce a intercettare Mitch La palla arriva Al numero 11 Che poi Guadagna Un bel calcio Di punizione Andrà a batterlo O il capitano O Vediamo Chi tirerà Il numero 6 Occhio Perché Umbi In due tempi Rischia qui Per un rimbalzo Dovete capire Che il campo Da quella parte Dalla nostra parte Dalla difesa Aveva l'erba Che era Lunghissima Però occhio Qui a Nico Che prova Una conclusione Da centrocampo Perché aveva visto Il portiere Fuori dalla porta Uscita di un niente Peccato Perché se no Era un euro goal Qui Nico Allarga Io l'appoggio A Pana Che guarda E lancia A cercare Sempre Dome È regolare Prova il pallonetto Alto Ma poi L'arbitro Fisca Fuori gioco Quindi niente Niente da fare Ora Ancora noi Cerco di tirarla Addosso al numero 4 Però Ancora il grande Atena avanti 9 Lo chiudo Poi la L'appoggiapana Che rinvia Un po' male Perché viene deviato Il suo lancio Quindi il numero 4 Si accentra Tira Rasoterra Facile per Umbi Che Di pericoli Ancora non ne ha avuti Quindi Usc Allarga per Sanfi Sanfi La mette in mezzo Per Abu Che sbaglia Simile a Quello di prima Viene ancora chiuso Non riusciamo ad andare Sul 2-0 Quindi ancora Dome Che si allarga Poi guadagna Un calcio d'angolo Battuto da Pisto A cercare Dome Non La palla non gli arriva Però Sanfi Ancora Sanfi Allarga per Nico Prova lo scavetto A cercare Abu Non ce la fa Quindi Una serie di impalli Poi il numero 6 Libera Ancora Nico Però Che viene chiuso Sbaglia il passaggio Il 9 Può recuperare Poi lancia Lungo per il numero 11 Che ci prendono In controtempo Per nostra fortuna Qui il numero 11 La prende male E sbaglia appunto Un'altra occasione bella Una seconda Per il grandate Quindi Dobbiamo assolutamente Fare il 2-0 Per stare un po' più tranquilli Qui era una bellissima Palla cercare Abu Il portiere esce Benissimo Qui cerco di spizzare di testa Non riesco Quindi il numero 10 Porta palla L'allarga Per l'11 Per l'esterno Che la mette in mezzo Per il 9 Che era fuori gioco Netto Infatti l'arbitro Fischia Dicevano di no Ma in realtà Rivedendo appunto Era fuori gioco Quindi Pisto viene atterrato Da una buona posizione Quindi vediamo Se andrà Dome Porta il tiro Bella parata qui Ancora del portiere Occhio Perché c'è Sempre il numero 11 Che cerca di allargare Quindi io capisco il passaggio Poi vedo subito Il taglio di Dome Lo lancio Una lotta continua Con il numero 6 Che chiude benissimo Il nostro capitano Però la palla arriva Sanfi Che cerca di allargarsi Però È chiuso Contro due Forse riesce a passare Chiede l'angolo No Ed è finito così Primo tempo Si ritorna in campo Sempre sull'1-0 Subito punizione Qui per il Grandate Battuta Dal numero 4 Per il 9 Che colpisce di testa Qui ancora Grandate Che cerca di spingere Qui Panarella Gli viene schiacciata la mano Però L'arbitro non feschia Mamma mia Che occasione Qui Per il numero 10 Che sbaglia Un gol già fatto E intanto Qui non si è visto Sanfi inventa Un pallone magico Per Dome Che poi la insacca di testa Nell'altro angolo Nulla da fare Per il portiere 2-0 Real Sanfermo Che adesso Sta prendendo campo Qui grandissima Palla geniale Di Dome Per Pisto Ancora Pisto Che la porta in avanti La palla Gli si ferma E poi Viene appunto Fermato dal terzino Qui intanto Esco Al posto di Generoso Gran palla qua Sempre del numero 10 A cercare Sempre il numero 11 Giocavano Quasi solo loro Ora Avu La mette in mezzo Per Dome Ancora di testa Però stavolta alto Quindi Sanfi Lotta ancora Contro il numero 2 Sanfi recupera Un altro pallone La palla in mezzo Per Dome Ed è doppietta 3-0 Per i padroni Di casa Qui niente da fare Ancora per il portiere E ora Real Sanfermo Di Laga Sul Sul grandate Un ottimo Secondo tempo Qui da parte nostra Che siamo entrati Con un'altra mentalità Qui Il tiro del subentrato Che va alto Quindi Entrato anche Panarella Intanto Il fratello Che la passa a Sanfi Sanfi Sbaglia Però la palla Arriva Nico Che vede Dome Dome appoggia Per Generoso Che la porta in avanti Ancora Generoso Appoggia Ad Abu Abu Allarga Per Sanfi Che è liberissimo Allarga per Luke Ancora Luke Doppio passo Doppio passo La passa Dome Vediamo se fa la sponda Per Asan Che è appena entrato Ed sono 4 4 per il Real Sanfermo Bella azione qui Da una parte all'altra Del campo Poi un'ottima sponda Da parte del capitano Con una doppietta E una assist 4 a 0 Real Sanfermo Che chiude definitivamente La partita Qui Dome Prova il tiro Centrale Facile per il portiere Qui ancora Asan Bravissimo Vede Sanfi Sanfi Gliela ridà Ancora Panarella Che può andare Panarella La rimette in mezzo Sempre per Asan Che la colpisce male Forse ultima occasione Qui per il Grandate Per provare Almeno il gol Della bandiera Occhio Ancora Il numero 10 Che calcia Gliela tocca Il numero 16 Mi sembra O il 18 Non lo so E riesce a parare Umbi Qui Finisce così 4 a 0 Real Sanfermo Ottima vittoria Vedremo Se riusciremo Ad arrivare Playoff Vittoria Per 4 a 0 Vittoria Schiacciante Secondo me Perché comunque Abbiamo fatto Un'ottima gara Personalmente Non mi è piaciuta La mia prestazione Però ripeto Il terzino Non è il mio ruolo Quindi io Posso provarci Ma Quello che Esce Esce Diciamola così Quindi Se vi è piaciuto il video Mettete like Commentate Iscrivetevi Seguitemi su Instagram Per qualsiasi novità Mancano 3 partite Vedremo Se riusciremo Ad arrivare In video Per qualsiasi novità